La Biblioteca Internazionale La Vigna di Vicenza, punto di riferimento a livello mondiale in tema di agricoltura, cultura e civiltà del mondo contadino, con i suoi 52 mila volumi e 100 convegni l'anno, è in serio affanno economico. Le gravi difficoltà mettono infatti a rischio serio non solo la normale attività di vita culturale, ma anche quella bibliotecaria. Per la nostra rubrica in fondo siamo venuti qui nella sede della Biblioteca La Vigna, a Palazzo Busarosco Gallo Zaccaria, per conoscere il professor Mario Bagnara, da dieci anni presidente di questa realtà cittadina, attiva nel territorio da ben 35 anni. Professor Bagnara, come si è arrivati a questa situazione purtroppo molto, molto critica? Ci sono due fattori da mettere in buon rilievo. Primo, la diminuzione piuttosto consistente, che raggiunge il 50% delle quote, non li chiamo contributi, ma quote sociali dei soci fondatori. Questo naturalmente è già un primo handicap. Poi ovviamente sono venuti meno anche per la realtà in difficoltà del territorio alcuni contributi bancari. E poi soprattutto il fondo di dotazione che Demetrio Zaccaria ha lasciato alla sua, chiamiamola, creatura alla morte nel 1993, finora ha retto bene e ha salvato i bilanci, coprindo, e lo sarà ovviamente di copertura anche nel futuro immediato, circa il 50%, forse anche di più, il 50% delle spese generali di un bilancio annuale della Biblioteca Lavinia. Stando così le cose, professore, sembrerebbe che questa biblioteca possa essere solo destinata a vivere in maniera passiva, che non è certo quello che voleva il suo fondatore Demetrio Zaccaria. Assolutamente, è quello che abbiamo cercato ovviamente di non fare in tutti questi anni, io sono qui da 10 anni, l'attività è sempre stata increscendo e devo dire che quest'anno in modo particolare, per il 2016, la progettualità è la più ricca di quanto mai sia stata negli anni precedenti della mia esperienza. Il rischio, venendo a mancare circa 40.000, 50.000 euro del bilancio, il rischio è di chiudere praticamente le attività, perché deve essere diminuito il personale, non si possono acquistare libri, non si può pubblicare la rivista triennale, che sta riscuotendo a livello anche internazionale ed è scaricata in tutto il mondo, Stati Uniti in modo particolare con una percentuale del 14% e quindi in pratica è una biblioteca destinata a vivere passivamente, che non è proprio quello che aveva sognato il fondatore, che ha fatto un investimento a sue spese e poi ha donato tutto alla comunità vicentina, ma devo dire alla comunità mondiale, perché è una biblioteca veramente internazionale. Professore, lei si è già mostro a livello anche internazionale, attivando più canali alla ricerca di possibili benefattori, ci sono state risposte in questo senso? Ci sono delle risposte sicuramente incoraggianti, anche perché ovviamente prevedendo questa situazione, già dall'inizio del 2015, con l'apporto anche di un nuovo vicepresidente come rappresentante dell'Accademia Olimpica, che è un personaggio importante di Veneto Agricoltura, ci siamo potuti naturalmente organizzare, pensando anzitutto a qualche collaborazione molto mirata con la stessa Veneto Agricoltura, poi avviando le procedure per l'accesso ai fondi europei e da ultimo anche stiamo trattando con uno specialista di una rete di promozione a livello nazionale che naturalmente ha poi collegamenti a livello internazionale e devo dire che anche dagli Stati Uniti ci è già giunto qualche segnale. Infatti avete, diciamo così, contatti internazionali quasi quotidiani, centinaia di migliaia di fans da tutto il mondo. Certamente, la nostra mailing list raggiunge quasi i 2000 indirizzi e abbiamo ovviamente internauti da tutti i paesi del mondo, anche dall'estremo oriente, quindi Giappone, Cina, paesi nordici, ma soprattutto l'utenza principale è quella statunitense. Tant'è vero che uno studente dell'Università Santa Barbara di California sta conducendo le sue ricerche qui perché l'ha scoperto attraverso la catalogazione informatica sulla viticoltura nel periodo fascista e ritornerà per 3-4 mesi ed è ovviamente un allievo di un master di altissima specializzazione. Dicevamo oltre 52 mila volumi qui alla vigna, qui siamo nella stanza blindata dove vengono curati questi beni preziosi. Come lo fate, professore? Naturalmente, avendo un'attenzione del tutto particolare per i libri antichi, in effetti la biblioteca è dotata di questa stanza blindata che inizialmente era anche perfettamente climatizzata, quindi a temperatura e a umidità costante. Da alcuni anni, naturalmente questi sistemi sono andati in tilt, però la porta blindata funziona perfettamente, il sistema di antifurto è regolarmente attivo, però la conservazione che dovrebbe essere garantita, cioè climatizzazione e umidità, qui nonostante gli appelli disperati che ho fatto anche al Ministero stesso, naturalmente non hanno ottenuto una risposta. E qui ci sono anche degli incunaboli. C'è il testo più antico a quanto riguarda? Il testo più antico è del 1478, è un capolavoro medievale, il trattato di agronomia più importante a livello mondiale, perché non ne esiste uno che sia paragonabile, che è scritto tutto in latino, che presenta un quadro completo sulla coltivazione della terra, ovviamente con tutte le indicazioni e anche delle operazioni che devono essere eseguite nei vari mesi, ed è stato un manoscritto composto e redatto all'epoca di Dante, che ha girato tutta l'Europa, ricopiato in varie lingue e pubblicato, naturalmente dopo l'invenzione dell'arte della stampa, fra i capolavori più significativi e più importanti. Qui noi abbiamo un'edizione di Strasburgo, quella che ho citato, però abbiamo anche la traduzione in lingua vulgare del 1490, stampata a Vicenza da un tipografo della Piazza dei Signori, che operava in Piazza dei Signori. Ecco, viene spontaneo chiederle questo, professore, avete mai cercato di calcolare l'ammontare del valore di questi tesori? Per dare una risposta la più semplice, ma nello stesso tempo anche la più corretta, i libri antichi hanno un valore inestimabile, abbiamo una copertura assicurativa, ma sicuramente non sarà una copertura adeguata al valore grandioso che tutti questi libri hanno. Il giardino, il parco, il giardino, come vogliamo chiamarlo, ha anche il problema delle barchesse? Nel giardino pure studiato, ma non realizzato pienamente da Carlo Scarpa, naturalmente c'è il grosso problema delle barchesse, cioè una struttura che Demetrio Zaccaria a suo tempo pensava di restaurare, però non arrivò nemmeno lui a mettere mano alle vecchie barchesse che sono ancora della vecchia costruzione del primo Ottocento. Sono circa 450 metri quadri che potrebbero benissimo offrire ospitalità a qualche istituzione di particolare pregio, con un parco a disposizione e quindi so che questo ha già suscitato, abbiamo anche una proposta molto concreta e speriamo naturalmente che anche questo possa essere un significativo completamento di valorizzazione della struttura di questa proprietà immobiliare, che ripeto è però del Comune di Vicenza, del fondo di dotazione, che è abbastanza consistente, che è stata una garanzia, possiamo dire, è un ammortizzatore finanziario preziosissimo e lo sarà ancora, però l'utilizzo delle rendite può essere fatto solo per il 60% per le spese di gestione, compreso l'incremento librario ovviamente e il 40% invece va ad incremento del fondo stesso, era un imprenditore, sapeva fare le sue previsioni anche economiche e quindi anche per il futuro della sua biblioteca, naturalmente questo è un altro aspetto di coerenza rigorosa che bisogna assolutamente rispettare. Quali altri fonti finora vi hanno sostenuto? In che modo? Noi abbiamo anche attivato varie iniziative, la più simpatica è quella degli amici della vigna, che naturalmente da parecchi anni, da quando sono arrivato io qui, naturalmente è una presenza molto significativa. Poi naturalmente promuoviamo molto anche la sottoscrizione del 5 per 1000 e anche questa è una rendita che ci permette di recuperare nel suo complesso, con i progetti magari speciali, con i servizi che possiamo erogare, circa il 25% del bilancio annuale, questa è la media. E naturalmente le iniziative, poi un'altra iniziativa bella è quella di adotta un libro, quindi per digitalizzare i volumi, metterli in rete, poterli consultare a distanza, per cui anche a distanza uno può leggere e quindi consultare la biblioteca. Ecco l'ultimo bilancio, 178 mila Euro, dopo domani avrete questo incontro, questo vertice con amministratori e consiglieri scientifici, un incontro fondamentale sul destino, per il destino di questa realtà. Sì, direi che è fondamentale, non è che parleremo in maniera specifica ovviamente di questo bilancio ipotetico, che deve però avere determinate garanzie per essere definito in questa entità, dobbiamo valutare insieme se ci sono le condizioni per poter continuare il piano delle attività e quindi mantenere la biblioteca nel suo ritmo di istituzione culturale, che ha una caratteristica particolare, questo ai signori imprenditori vorrei sottolinearlo molto bene. Non è la solita biblioteca internazionale con tutti quei suoi libri, ma ha anche una funzione molto pratica, molto concreta, perché i libri riguardano la vitivinicoltura, riguardano l'enogastronomia e gli incontri che vengono tenuti sono finalizzati a fornire non soltanto risultati di studi astratti, ma anche indicazioni molto concrete dal punto di vista operativo. Non ultima, soprattutto, la fornitura dei mezzi per apprendere la storia della nostra produzione, che nel mercato mondiale, sappiamo, è una condizione fondamentale e di eccellenza per poter offrire un prodotto di qualità. Ecco, in soldoni quanto manca, insomma, davvero la possibilità di un'attività, insomma, sufficientemente decorosa anche per il 2016? Sì, ci mancano dai 40 ai 50 mila Euro, per poter dire, continuiamo con il ritmo che abbiamo dimostrato di raggiungere negli anni passati, però poi l'obiettivo è quello di ampliare il più possibile, perché le attese, le esigenze, le richieste sono ovviamente una prospettiva di espansione dell'attività, perché quando si comincia anche a dialogare con il mondo intero, noi sappiamo per esperienza che naturalmente occorrono anche i sostegni preziosi. Devo dire che tutti i collaboratori scientifichi lavorano gratuitamente, non è solo il Presidente, ma anche tutti i componenti del Consiglio scientifico e anche tutti i relatori che vengono anche da università lontane, vengono perché ritengono ovviamente un onore essere alla vigna ad offrire il loro contributo scientifico. Per chiudere, un Presidente fiducioso, un Presidente preoccupato, fino a che punto? Sono sicuramente preoccupato, però nel momento in cui uno avverte il pericolo è ancora più disposto a rilanciare in termini di qualità dal punto di vista progettuale, ed è quello che stiamo facendo. Questa mattina abbiamo presentato una iniziativa che può essere un segnale, proprio all'inizio di questo 2016, un programma con l'ESAC della Confo Commercio di Cooking Show, la vigna è coinvolta naturalmente con il suo patrimonio culturale, con un suo componente, il Consiglio scientifico e questo è un segnale di fiducia, non dico di ottimismo, ma di fiducia e una grintosa volontà di fare in modo che ciò che Demetrio Zaccaria ha creato sia non solo conservato, ma sia ancora più valorizzato. Quindi in sostanza che cosa dirà mercoledì in questo vero? Io porrò un problema mercoledì, ma lo pongo anche ora grazie a TVA, anzitutto ai vicentini, ma non soltanto ai vicentini, lo pongo ai veneti, lo pongo agli italiani, senza andare oltre a livello europeo. Vogliamo che questa biblioteca, considerata un unicum a livello internazionale, non siamo noi a definirla tale, ma sono gli esperti di tutto il mondo che la definiscono appunto tale, mantenga la sua vitalità culturale per i benefici che può offrire agli imprenditori, per cui ecco il mio appello agli imprenditori del settore anche specifico, fatevi avanti, siamo qua, la biblioteca ha bisogno di voi, ha bisogno di tutti, anche delle persone ovviamente più semplici, ma interessate per la sua vitalità naturalmente ha bisogno di un concorso di energie, di disponibilità e quindi di risorse. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie a voi.